Allora, per aver avviato un'attività imprenditoriale etica volta ad includere persone con differenti disabilità questa è la motivazione con cui è stata conferita la medaglia al merito della Repubblica dal Capo dello Stato a Nicola Adilena, pasticcere sociale, buongiorno qui con noi collegato Allora, complimenti Buongiorno a voi, buongiorno Tanta felicità immagino Assolutamente, siamo felicissimi per questo riconoscimento Allora, ci vuole raccontare, lei è pasticcere, giusto? Esatto, sì E ci racconti, perché praticamente lei ha lasciato anche però il suo lavoro perché lei lavorava a Milano Sì, lavorava a Milano in uno degli hotel più importanti della città per tanti anni e una decisione personale mi ha portato a... A tornare nella sua terra, in Puglia Nella mia terra, in Puglia, esatto Dove qui appunto abbiamo avviato insieme alla collaborazione del presidente della ONLUS cooperativa Includi Questo fantastico laboratorio che si chiama Virgola Dove all'interno abbiamo inclusione, facciamo inclusione lavorativa a ragazzi con problematiche Insomma, io li chiamo ragazzi speciali Posso chiedere una cosa, che cos'è la pasticceria etica e com'è nato anche il suo progetto? Allora, è nato grazie anche a un... È stato finanziato anche dall'avviso pubblico sociale IN Dall'assessorato al welfare della regione Puglia Niente, è un bellissimo progetto dove all'interno appunto facciamo inclusione lavorativa Allora, lei una cosa che ha detto è che nella sua pasticceria non c'è solamente lavoro Ma c'è anche la possibilità di poter imparare E allora, in che modo si cresce da voi? Beh, si cresce tutti i giorni Questi ragazzi sono fantastici Io sono disponibile nei loro confronti a imparare e a insegnarli quello che è l'arte della pasticceria Ecco, grazie, grazie ancora e complimenti Nicola Dilena Grazie Complimenti veramente E allora, a lei e le altre 29 persone, perché eravate in 30, è vero? Sì, eravamo in 30 In 30, complimenti